Adottano la fioriera sul Ponte Capograssi, ma i ladri incivili rubano la targa. A fare la marascoperta questa mattina sono state Laura e Anna, le due titolari della profumeria Rosa Cipria, che hanno risposto a suo tempo all'appello del Comune e hanno adottato la fioriera gratuitamente, ma sul Mona nemmeno le buone azioni vengono valorizzate. Perché qualcuno ha pensato bene di sfregiare il nobile gesto. Oggi abbiamo notato che nella fioriera sul Ponte Capograssi, da noi adottata, oltre al furto di una piuantina di qualche mese fa, all'utilizzo della fioriera stessa, a mo' di cestino dell'immondizia, e starà derubata la targa con il logo della nostra profumeria, raccontano le due esercenti che sono rimaste lusingate del fatto che poteva piacere il logo. Ma, si chiedono, ci piacerebbe sapere l'utilizzo che ne vorrà fare questo essere infame. Un gesto destituito di ogni logica che conferma lo scadimento di valori che regna Sofrano, soprattutto in città. Sarebbe bello a divenire una gara di volontariato a colpi di fioriere e aree verdi, nel corso della quale valorizzare l'ingegno e la creatività, fermo restando l'ordinaria amministrazione che spetta l'ente comune, cheppure manca, ma anche chi ha voglia di fare, dopo piccoli ma insignificanti gesti come questi, viene spinto a gettare la spugna.